E' morte in ospedale a Udine, Liliana Rinyuk, la 19enne di origine ucraina che da anni viveva nel porto enonese, caduta domenica in slittino a Saudis, aveva battuto violentemente la testa. Scomparso a 99 anni il professor Gianfranco Daronco, uno dei padri nobili dell'autonomismo fiulano, assieme ad altri intellettuali fondò il movimento popolare fiulano per l'autonomia regionale e il cordoglio del mondo politico. Baby Boom nel piccolo borgo di Avasinis, di Trasaghi, se i residenti sono 300, nell'ultimo anno sono nati 5 bambini, non accadeva da decenni e già si fantastica sulle proprietà dei frutti di bosco del posto. Il prossimo sarà il primo Natale senza lo storico grande presepe di Ara di Tricesimo, impossibile poter avanti la tradizione, l'area ora è una grande cantiere dove sarà allestita una nuova natività simbolica. Riccardo Cortese non è più un giocatore dell'APU, dopo la sconfitta contro Piacenza la società decide di separarsi dal capitano e di pensare le gerarchie all'interno del gruppo. Buonasera a tutti voi, ben trovati all'appuntamento serale con l'informazione su Telefriuli. È morta ieri, il giorno dopo il ricovero, all'ospedale di Udine Liliana Riniuk, 19enne di origine ucraina, residente nel capoluogo del Friuli occidentale. In seguito a un incidente accaduto a Sauris nel pomeriggio di domenica. La ragazza che si era diplomata a luglio all'istituto Zanussi di Pordenone è caduta da uno slittino non lontano dall'albergo Nider battendo la testa. Sul posto erano intervenute un'ambulanza e poi l'elisoccorso che l'ha trasportata in ospedale sul sito dell'istituto pordenonese apparsa una nota della scuola. Morire a 19 anni vi si legge qualcosa di inenarrabile, non ci sono parole, lo sconcerto è palpabile, siamo tutti basiti, ammutoliti. Non si può morire a 19 anni eppure è accaduto ed è accaduto alla nostra ragazza che tutti abbiamo conosciuto ed accompagnato in questi 5 anni di scuola. Si è spento all'età di 99 anni il professor Gianfranco D'Aronco, uno dei padri nobili dell'autonomismo friulano. Nato a Udine nel 1920 da genitori gemonesi era considerato uno dei maggiori critici e conoscitori della letteratura friulana. Fin dalla gioventù si era votato alla causa dell'autonomismo fondando nel 1947 assieme ad altri intellettuali friulani come Pierpaolo Pasolini e Chino Ermacora il Movimento Popolare friulano per l'autonomia regionale. Aveva ricevuto tra gli altri riconoscimenti il premio della presidenza del Consiglio nel 64 e nel 73. Nel 2017 era stato insignito della laurea d'onore in italianistica all'Università di Udine per il suo rilevante contributo alla vita culturale, politica e istituzionale del Friuli e per il suo ruolo primario della proposta e realizzazione di un Ateneo friulano. Ed Ronco aveva ricordato pochi anni fa la storia dell'Associazione per l'Autonomia friulana prima e per il Movimento Popolare friulano e per l'autonomia regionale poi nati tra il 46 e il 47. Questa è una parte di una lunga intervista concessa a Conti Lejust e la trasmissione della provincia di Udine che è andata in onda su Telefriuli nel dicembre del 2016. Ed esisteva già l'Associazione per l'Autonomia friulana fondata da Tessitori nel luglio del 45. e naturalmente ci sono due genotasi, ora ero anche io dentro del comitato e Tessitori ha cominciato a battere. Ha fatto tante iniziative, anche qualche stampata. Poco appunto mi è venuto al Tiaf di fare un movimento agli ultimi del 46. Mi sono scontrato con Tessitori e avevo scritto una lettera, facciamo qualcosa eccetera, in Sardegna, in Sicilia. E mi affrontando e mi ha detto, lascia stare tu la Sardegna e la Sicilia, mi ha detto no. E al Friuli ci penso io. Vabbè, non c'è l'altro. E ho pensato anche che invece tu hai inventato il mese di gennaio, dal 46. Il Movimento Papa la Friuli ha veramente un impegno, il teatro. E così la storia si arriva in gennaio dal 47, l'approvazione della Costituzione, e delle 4, non 5, ragioni speciali. Perché noi, in grazia di Trieste, si aveva dispettato. Si è sveato un 15 anni dopo Sturzo. Allora, dite lui, è ora di eliminare l'articolo di legge nella Costituzione provvisoria, le norme momentanea e non c'è nessuno. E allora hanno fatto così. Oggi se ne è andato un gigante del nostro Friuli, così ha detto il sindaco Fontanini, sulla scomparsa di Gianfranco D'Aronco. Rimane però, aggiunge, la sua eredità fatta di grandi battaglie, come l'idea di istituire una regione friulana sulla base della nostra unicità storica, culturale, linguistica e di una produzione intellettuale, che ancora oggi serve da vera e propria bussola per chiunque, in qualunque regione d'Europa, sia impegnato nella difficile sfida dell'autonomismo. Riuscire a fare tesoro dei suoi insegnamenti, conclude Fontanini, credo sia il modo migliore per ringraziarlo, di certo in modo che lui avrebbe apprezzato di più. D'Aronco metteva al centro la visione del Friuli, aggiunge Cristiano Schaurli, segretario regionale del PD. È stato un autonomista di grande carattura intellettuale, gli va riconosciuto di aver profuso tanta parte delle sue energie al servizio della causa nella quale credeva. Per molti come me, che si sono avvicinati alla politica, ricorda Schaurli, è stato un punto di riferimento e di confronto, un pungolo spesso critico, sempre capace di mettere al centro non se stesso, ora ricerca di consenso, ma una visione del suo Friuli, del suo ruolo nel mondo. E il Friuli piange anche Domenico Lenarduzzi, padre del progetto Erasmus, da lui lanciato nell'87, è morto a Bruxelles, a 83 anni, era partito per il Belgio da Ovoledo di Zoppola. Addio al padre dell'Erasmus, Domenico Lenarduzzi, originario di Ovoledo di Zoppola, anche se nato a Torino, si è spento a Bruxelles all'età di 83 anni. Era stato lui nel 1987 a dar vita al progetto, che ha messo in circolo milioni di studenti universitari in tutta Europa. Figlio di un minatore friulano, emigrato a Charleroi nel 1943, Lenarduzzi, a 11 anni, partendo da Ovoledo, luogo di nascita del padre, si spostò in Belgio dovebbe la possibilità di frequentare un collegio d'eccellenza, sviluppare una carriera come giurista, fino a diventare direttore onorario della Commissione Europea e dare vita al programma Erasmus. «Sono arrivato in questa nazione nuova con un'estrema nostalgia della mia terra», raccontò Lenarduzzi, parlando dell'arrivo in Belgio. Più passava il tempo e più la mancanza del friuli si faceva sentire. Il sentimento di lontananza era un dolore lancinante. A questo stato d'animo si aggiungeva il forte razzismo nei confronti degli italiani, che a scuola venivano messi in ultimo banco e non esisteva il minimo aiuto da parte degli insegnanti. Il fatto di non sapere la lingua, spiegò Lenarduzzi, si rendeva tutto ancora più difficoltoso. Ma lui superò questa e altre avversità e ne trasse la forza per realizzare il sogno di creare il progetto, che prende il nome dal filosofo Erasmo da Rotterdam. «L'Europa si cambia solo se un grande numero di persone accede agli scambi culturali», ripeteva Lenarduzzi, che è sempre rimasto legato al friuli e alla marilenghe, tanto che per anni è stato presidente del Fogolar Furlan di Bruxelles. Nel 2004 l'Università di Udine gli conferì la laurea ad onore in scienze della formazione primaria. In tanti, dalla sua terra, nel mondo delle istituzioni e della cultura, oggi lo ricordano con un pensiero carico di riconoscenza, a partire da Sergio Bolzonello, che ha riportato la notizia in Consiglio regionale, tratteggiandone la figura. Una maestra d'asilo è stata sospesa per otto mesi per maltrattamenti ai bambini. I piccoli venivano stratonati, fatti cadere e denigrati. La struttura si trova alle porte di Udine. Maltrattamenti fisici e morali nei confronti di bimbi piccolissimi, tonni di voce alti, bruschi, aggressivi, espressioni denigratorie. Tutti atteggiamenti adottati da una educatrice di un asilo nido attivo alle porte di Udine. Li hanno scoperti gli agenti della polizia della squadra mobile, coordinata dal vicequestore Massimiliano Ortolan, che hanno avviato un'indagine lo scorso aprile, con riprese video-audio e ascoltando diversi testimoni. Si sentono grida, i piccoli vengono spintonati, fatti cadere dall'alto. In un'occasione un bambino è stato afferrato per le braccia, sollevato di peso e lasciato cadere sul tappeto in modo brusco, facendogli battere la schiena. Ai piccoli venivano dati anche i pizzicotti. Gli accertamenti hanno permesso di acclarare le responsabilità dell'educatrice, consentito al GIP su richiesta del PM della Procura di Udine di emettere nei confronti della donna un'ordinanza della misura interdittiva del divieto temporaneo dell'esercizio dell'attività di maestra di asilo per otto mesi. Restiamo alla cronaca sospesa e fino a domattina alle ricerche dell'uomo di Codroipo, del quale non si hanno notizie. Da domenica lo hanno cercato anche oggi senza sosta i vigili del fuoco di Pordenone, Udine e Gorizia, comunità cinofile, carabinieri, polizia locale, protezione civile, inutili sorvoli dell'elicottero e del nucleo volo di Venezia e dei droni dei vigili urbani di Udine e della forestale, inutili anche le immersioni dei sommozzatori di Trieste. Nella notte si era mantenuto comunque un presidio a Morsano al tagliamento tra Varmo e il ponte di Madrisio, al confine tra le due province. A Udine migliora la raccolta dei rifiuti casa per casa fra errori dei cittadini e alcuni disguidi. Oggi gli operatori ecologici ritiravano la carta e i cartoni conferiti nei contenitori con il coperchio blu. Durante il tour che abbiamo fatto questa mattina nei quartieri della circoscrizione 2 per valutare la situazione abbiamo notato una maggiore pulizia delle strade, un minore numero di errori commessi dai cittadini. Insomma, il sistema si sta oliando e la NET sta anche provvedendo a ripulire quegli stalli che fino alla settimana scorsa ospitavano i bidoni, spesso di colme di rifiuti, gettati incivilmente a terra. Segneremo però due piccole nuove problematiche. Spesso i camioncini finiscono per rallentare di molto la viabilità nelle vie più strette, come ad esempio in via Volturno, i diversi bidoncini non sono stati svuotati o per distrazione o per la fretta o perché nascosti dalle auto parcheggiate a lato dei marciapiedi. In questo caso i residenti dovranno forzatamente aspettare la prossima raccolta di carta e cartoni fissata tra sette giorni. La raccolta di rifiuti porta a porta continua intanto ad aumentare parlementare le polemiche e anche oggi sono giunte segnalazioni di sacchetti buttati con non curanza e bidoncini rimasti in strada. Come sta andando la raccolta differenziata spinta porta a porta? Perché arrivano segnalazioni, arrivano fotografie, cioè ci sono foto con sacchi, ci sono ancora bidoncini esposti, le persone non li hanno ritirati in casa? È iniziata in una zona della città, la zona dei Rizzi, la zona del Cormor, San Rocco. Abbiamo cominciato in pratica da pochi giorni, è chiaro che le prime giornate sono sempre le più difficili anche perché la gente deve abituarsi, ma mi sembra che tutto sommato le cose stiano andando bene. C'è qualcuno che magari non so se volutamente o magari perché non ha capito bene il regolamento di come si conferiscono i rifiuti, non si comporta insomma correttamente. Viene criticato il sistema per applicare poi queste, per seguire queste nuove metodologie. Siamo sempre là perché la protesta non è contro la raccolta differenziata. Ma io vorrei che qualcuno mi spiegasse come si potrebbe fare la raccolta differenziata migliore. Noi siamo aperti a dei suggerimenti. Pensiamo che questo metodo che vuol dire alla fonte, cioè nella famiglia, bisogna iniziare a fare la separazione, sia un metodo vincente. Poi per quanto riguarda i contenitori... Bidoni, bidoncini ancora per le strade. Sì, allora i bidoni nei condomini, il problema critico è forse nei condomini dove gli spazi sono limitati. Bene, nei condomini c'è il contenitore di condominio. Io invito i condomini a decidere su questa formula. È chiaro che non possiamo imporglerla noi. Per la NET il bilancio di questi primi giorni di raccolta casa per casa è comunque positivo. Un bilancio di queste prime giornate di casa per casa? Il bilancio è positivo, anche perché abbiamo visto che l'approccio dei cittadini udinesi è stato estremamente diligente e con molta attenzione all'ambiente, rispettoso dell'ambiente. I primi conferimenti sono circa metà della circoscrizione, parliamo di 5.000 utenze più o meno servite. Abbiamo riscontrato ieri abbastanza abbandoni, ma insomma è normale, anzi sono molto meno della media fisiologica. Oggi sono già calati drasticamente, quindi insomma non possiamo essere altro che molto soddisfatti. I veri problemi reali che affronteremo sono un po' quelli dei condomini. Nel senso, situazioni in cui non ci sono spazi, avere dei kit individuali da tenere in casa è una problematica. Auspico però che gli amministratori, i condomini, i condomini possono passare ai cassonetti condominali che credo la soluzione migliore. Tra l'altro notizia di ieri, mi dicono che iniziano alcune ditte a organizzarsi e chiedono dai 4 euro a famiglia a mese, quindi per movimentare i cassonetti nei condomini. A proposito di costi, molti temono che aumenteranno con il casa per casa? Ma noi auspichiamo di no. Il piano, come ormai è noto, prevede anzi un leggerissima diminuzione, ma diciamo noi riteniamo che possa mantenersi ai stessi livelli dei precedenti. Parliamo dell'app. Noi abbiamo fatto questa app dove ci sono tutte le indicazioni. In effetti ieri, che era il primo giorno che è stata messa a terra, non ha funzionato nel pomeriggio. Questo parliamo di iOS, quindi Apple. Android è stato rilasciato oggi, quindi dovrebbe essere funzionante, a parte quelle due ore, tre ore di ieri. Giunta Comunale, oggi a Udine, diversi temi trattati da 25 nuovi alloggi atri in via Manto, va il rientro a Udine di competenza per la gestione di servizi socioassistenziali. Esordio alla conferenza stampa di Giunta del Comune di Udine della neoeletta Giulia Manzan, quale assessora alla pianificazione territoriale e progetti europei, delega appartenuta a Pizzocaro, all'attuale assessora alla cultura Fabrizio Cigolot. Tra i vari punti all'ordine del giorno, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione con l'Ater territoriale per la realizzazione di 25 nuovi alloggi in via Mantova, usufruendo di fondi regionali. Nel corso dell'incontro con la stampa, il sindaco Pietro Fontanini ha riferito di essere in causa con l'Udinese SPA per questioni legate al lavoro all'interno dello stadio e di aver concesso l'uso di Sala IACIA, un'associazione udinese, per un dibattito sul fine vita. Un evento analogo era stato bocciato, come ha riferito il sindaco, perché la domanda presentata non era corretta. Dal 2020 il Comune di Udine ritornerà a essere l'ente gestore dei servizi socioassistenziali nell'ambito dell'Unione territoriale. Sono 30 milioni di euro che gestiamo in un anno insieme a tutti i dieci comuni e Udine parte con il primo gennaio 2020 a gestire questo servizio come faceva 4 anni fa. Adesso torniamo a mettere in moto questa macchina, che è una macchina complicata, perché ci sono tanti assistenti sociali da gestire e tante situazioni da ottimizzare il più possibile. Frattanto a Udine è cominciata una raccolta firme per la tutela e il mantenimento dello stato attuale della ROG in Largo delle Grazie, organizzata da un comitato sorto dopo aver appreso l'intenzione dell'amministrazione di creare la riproduzione funzionante di una centralina idroelettrica nell'ex officina Malignani. Noi vogliamo ricordare Arturo Malignani ripristinando questa centralina, che sarà una centralina didattica, dove si produrrà una quantità di energia molto bassa, anche perché la cosa sarà molto piccola, senza nessun impatto. Abbiamo chiesto alla sovrintendenza il permesso di realizzare quest'opera, quindi è una cosa che sta all'interno di un salto che c'è già nella ROG al lato delle Grazie. Dobbiamo solo realizzare una piccola casetta, in pratica, in legno, con una specie di turbina per produrre questa energia. Con l'uscita di scena dal Consiglio regionale di Piero Camber, Forza Italia e la maggioranza perdono una poltrona in piazza Oberdan. Walter Zalucar, primo di non eletti nella stessa lista e circoscrizione, questa mattina è subentrato dal collega di partito Camber, ha prestato ufficialmente giuramento in aula, assumendo così formalmente la carica di consigliere regionale. Poi ha lasciato Forza Italia andando a sedersi sui banchi del gruppo misto, accanto al consigliere Furio Onse. I rapporti tra Forza Italia e Zalucar non erano notoriamente dei migliori, in particolare quelli tra il neoconsigliere e il vicepresidente della regione Riccardi, appunto tale che gli azzurri avrebbero preferito perdere un posto in consiglio piuttosto che far sedere tra le proprie fila. Zalucar a Piero Camber, ricordiamo, è decaduto dalla carica di consigliere dopo la condanna definitiva per l'inchiesta Spese Pazze. Torniamo a Udine perché all'ospedale universitario una storia di successo dimostra come il nostro sistema sanitario riesca a offrire una qualità di livello internazionale, un lavoro di equipa consentito di risolvere un caso difficile, aiutando un ragazzo del Kosovo che da anni non riusciva ad aprire la bocca in seguito a un trauma. All'ospedale universitario di Udine un lavoro di equipa che ha coinvolto, oltre alla clinica di maxillo facciale, la reanimazione, la sala operatoria, reparti, uffici amministrativi, ha portato con un intervento durato 12 ore alla risoluzione di una situazione gravissima in cui si è trovato un ragazzo del Kosovo. Problemi a parlare, a mangiare, ad aprire la bocca fondamentalmente a causa di un trauma che aveva sofferto nell'età infantile e poi era stato plurioperato. Nel frattempo le cose erano evolute, nel Kosovo non avevano tutta la possibilità di dargli questa assistenza ed è traghettato per l'Italia fino a giungere a noi con un problema molto molto grave legato alla fusione della mandibola con la base cranica da entrambi i lati. E con l'intervento è stato particolarmente difficile, tant'è che c'è stato un grande lavoro di equipa. Sì, come sempre l'ospedale di Udine ha messo in campo tutte le professionalità e abbiamo lavorato sia nella fase di progettazione virtuale, noi abbiamo qui all'interno un bellissimo centro dove elaboriamo e prototopizziamo tutti i nostri prodotti, i nostri lavori, e la cosa interessante è stato il coinvolgimento con il radiologo interventista, il dottor Sponza, che ha dovuto creare tutta una serie di situazioni protettive per la vascularizzazione, e poi l'anestesista, il dottor Flavio Bassi, primario dell'anestesia, che ha fatto una mini-trachiotomia mini-invasiva, ecco, una percutanea. Mercatone 1, non c'è stata la fumata bianca, si è svolta oggi un tavolo al Ministero dello Sviluppo Economico e nessuna delle 12 offerte ha rispettato i requisiti. Poteva essere il giorno decisivo per le sorti del marchio Mercatone 1, invece l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra commissari, esponenti del Mise e sindacati si è risolto con un rinvio. La buona notizia è che la Cassa Integrazione Straordinaria, che interessa circa 1.700 dipendenti del colosso di arredamento, in scadenza a fine anno, è stata prorogata il 23 maggio 2020. Per ora si tratta di un atto ufficioso, che verrà formalizzato prima della fine dell'anno. Un'abbocata d'ossigeno anche per la settantina di lavoratori dei punti vendita del Friuli Venezia Giulia, presenti a Sacile, Reana del Royale e Monfalcone, anche se per loro le cifre si aggirano attorno ai 500 euro mensili. Di contro però non c'è stata la fumata bianca per l'acquisto dei 55 punti vendita del gruppo, finito in amministrazione straordinaria nell'estate 2015, con la parentesi di nove mesi a guida Sharnon Holding, fallita lo scorso mese di maggio. I commissari straordinari hanno fatto sapere che delle 12 offerte pervenute nessuna ha rispettato il 100% dei requisiti, in particolare quello sul fronte del riassorbimento totale dei dipendenti. I posti di lavoro proposti erano in tutti i casi al ribasso. Ecco perché nessuna offerta è stata ritenuta vincolante e si è deciso di prendersi ancora qualche mese per concludere le trattative. Siamo soddisfatti per la proroga della cassa, spiega Massimiliano Burelli, sindacalista della Filcams CGL di Pordenone, ma ci preoccupa la tenuta dell'occupazione. Il nostro obiettivo, conclude, è che vengano riassorbiti tutti i lavoratori della regione. Da quanto trappelato, per i tre punti vendita del Friuli Venezia Giulia ci sono in ballo più offerte, all'interno di pacchetti anche di una ventina di negozi, ma servirà ancora qualche mese per vedere concretizzarsi l'affare. Sarà il primo Natale senza lo storico presepe di ARA. I volontari stanno smontando tutta la struttura, l'ARA si è trasformata in un vero e proprio cantiere, ci sarà comunque una natività simbolica. A Dara di Tricesi, come hai detto, da 40 anni qui c'è stato il grande presepe e vedete adesso ci sono solo macerie. Dobbiamo anche dire che è stato sempre Don Anilo, che era il punto di riferimento, il parroco della comunità, che si era inventato questo presepe che veramente era qualcosa di grande attrazione per la comunità e anche per Tricesimo e tutta la cittadina. Adesso purtroppo Don Anilo è in una casa di ricovero. C'è anche da dire che nonostante che adesso vediamo queste macerie, ARA non trascurerà di essere un punto di riferimento perché anche quest'anno si rinnoverà la fiaccolata che porterà i tre comuni così a convergere su ARA e nello stesso tempo ci saranno delle attività che sicuramente terranno viva la comunità. Noi non eravamo in questo momento in grado di continuare a fare una cosa del presepe che faceva Don Anilo. Don Anilo era ideatore, era il costruttore, era anche il custode poi di questo presepe. Comunque quest'anno in ricorrenza delle feste ma poi anche per la lucciolata come ricordava il nostro vice sindaco faremo comunque un simbolo del presepe che sarà qui nel nuovo centro della comunità che qui a fianco abbiamo messo a dimora un pino che lo allestiremo e sotto questo pino verrà fatto un presepio e dunque cercheremo di dare un'altra fissionomia al paese. Cerchiamo di dare con delle luci, con delle lanterne che abbiamo acquistato, 150 lanterne che illumineranno il paese, il paese del Natale. Ci spostiamo da Vasinis perché nel piccolo borgo che appartiene al comune di Trasaghi c'è stato un vero e proprio baby boom. E proprio nel mese di dicembre, il mese del Natale da Vasinis arriva una bella notizia. Sì, quest'anno, si parla del 2019, sono nati nella nostra piccola frazione 5 bambini. Un numero da baby boom, visto la media regionale che è di 6,4 bambini ogni 1.000 abitanti, a Vasinis facendo una media siamo al 15 per 1.000. Un numero eccezionale che dimostra che nel piccolo paese, insomma, si vive bene, l'aria porta bene, è un indice di fertilità che ci rende orgogliosi di far parte di questa piccola comunità. A Vasinis il paese del mirtillo e dei piccoli frutti. Hai in servo una bella iniziativa per San Nicolò. Quest'anno si arriva alla cinquantesima edizione della festa. Sì, sono 50 anni, erano gli anni 60, che si festeggia con i bambini l'arrivo di San Nicolò che porta i doni a tutti i bambini. La Proloqua vuole portare un dono speciale a questi cinque neonati con una piccola pergamena di ricordo della giornata e poi un altro piccolo regalino. Vogliamo in questo modo dare un segnale ai genitori, alla comunità. Parlando del lampone e del mirtillo potrebbe essere proprio questi frutti che producono, insomma, questi risultati e noi siamo orgogliosi di questo. Da capitano a prima vittima della crisi Riccardo Cortese non è più un giocatore della PU. La società ha preso una decisione forte dopo la brutta sconfitta contro Piacenza al Carnera. Capitano che entra in campo e lancia la palla nel campo avversario. Scene veramente pietose. Che riflette dei giocatori. Se si facciano un esame di coscienza non si può giocare una partita del genere. Ci vuole amore per la maglia. Abbiamo fatto gli ultimi due tiri per riaccendere la speranza a un metro dal ferro, dai. Non era fantascienza pensare che qualcosa sarebbe successo una volta sentite queste parole. L'ultima immagine di Riccardo Cortese è un brutto tiro della disperazione nelle fasi finali della gara persa contro Piacenza. Un tiro che non va nemmeno a tabellone. Riccardo Cortese, il capitano, già discusso in una partita dai tifosi ma difeso allora con le unghie dal GM Mikalic. Questa volta, invece, nessuno lo ha salvato e a distanza di due giorni da quella gara definita come indegna dal presidente Pedone la società ha comunicato la separazione. A seguito di un'attente e profonda analisi protratasi con lo staff tecnico nella giornata di ieri si legge nella nota ufficiale diffusa nel tardo pomeriggio siamo giunti a questa decisione condivisa seppur dolorosa. Considerato il momento di difficoltà che sta attraversando la squadra la scelta è stata di dare un segnale forte al gruppo per ricalibrare le gerarchie e richiamare tutti alle proprie responsabilità nella convinzione ferma che ci siano tempo e potenzialità per sistemare una situazione degenerata con la sconfitta casalinga di domenica scorsa. La società saluta con affetto Riccardo augurandogli un futuro professionale ricco di soddisfazioni. E chissà se in queste gerarchie forse già incrinate il ruolo di guida verrà un rassunto da Michele Antonutti che più volte nell'ultima gara ha chiamato tutti a sé per indicazioni che anche a fine match quando la squadra si è raccolta come dopo ogni sirena finale aveva urlato forte così. Mentre Cortese gli risponde qualcosa a parole e a gesti difficili da interpretare ma forse già segnale della separazione che oggi ha preso forma. È tutto, grazie per aver seguito il nostro telegiornale e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il nostro canale